Mentre i titoli di giornali continuano a spaventarci sulle criticità del sistema economico finanziario, su quelle che potrebbero essere delle conseguenze drammatiche, vedo dei mercati finanziari che non credono più alla retorica dell'inflazione dei tasse di interesse e inoltre dei capitali che silenziosamente continuano a confluire all'interno dei mercati azionari, sugli indici più importanti e soprattutto su alcuni comparti. Ora vedremo tutto quanto insieme. Ciao ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale. Stiamo osservando il rendimento dei trovazioni americani sui minimi rispetto a quello che è il suo andamento da ottobre a questa parte, infatti abbiamo visto dei rendimenti oscillare fra 3.5, vedete qui il minimo, e 4. A marzo ha parlato Fed, cioè la Fed, quindi ha parlato Powell, vi ricordate il rialzo dei tasse di interesse di 25 punti base, eppure le obbligazioni si sono portate al contrario e quindi stanno diminuendo e viaggiano sui minimi di questo periodo. Come mai? Perché il mercato è convinto che ormai il pivot sia dietro l'angolo, non sia più sostenibile quella politica, e che anzi molto presto, assai prima di quanto abbiano dichiarato, dovranno iniziare a tagliare i tassi di interesse. Ora cambiamo scenario e rimaniamo però a qualcosa di molto collegato, correlato. Infatti stiamo osservando un cambiamento di trend. Vi ricordate, se mi seguite, dallo scorso autunno stavamo assistendo a una contrazione molto importante del numero di compravendite di case, delle immobiliare negli States. Adesso invece stiamo osservando una ripresa, quindi un'inversione di trend. Questo è un articolo del 21 marzo. Ed è accompagnata questa inversione, ovviamente, è una cosa super logica, alla diminuzione degli interessi dei mutui, quindi delle rate dei mutui stessi. Tutto collegato al discorso di prima dei rendimenti obbligazionali, quindi del comportamento di un mercato che si porta avanti rispetto alla Fed, rispetto ai tassi di interesse. Quindi non le crede più, ma proprio zero. Andiamo avanti e qui osserviamo la crescita negli ultimi mesi dei mercati, diciamo tutte quante le aziende che si trovano nel business delle nuove costruzioni. Quindi che se una costruzione esistente, i casi esistenti o nuove costruzioni, stiamo verificando un'inversione di trend rispetto alla diminuzione, quindi è una bella ripresa. Ora c'è un altro settore, un altro comparto che corre veramente tanto. Abbiamo visto nel video dei due giorni fa le big tech che sostengono il mercato azionario, quindi possiamo immaginarsi un Nasdaq che stia sovraperformando i mercati tech, così poi lo vediamo insieme. Nello specifico all'interno del tech andiamo a vedere i semiconductor, quindi i semiconduttori, guardate un più 24% da inizio anno. Andiamo ad esplorare questo ETF della Vanek. Vedete titoli famosissimi come Taiwan Semiconductor, Nvidia, l'Europea ASML, poi abbiamo Broadcam, Texas Instruments, Qualcomm, Intel, insomma tutte quante aziende note, Skyworks Solutions per chi affronta i mercati finanziari e azionari. Ma come mai vi è questa reazione dei mercati, questa forte convinzione? Per differenti ragioni. Innanzitutto è stata avviata fortemente una politica cosiddetta di cheap reshoring, quindi le potenze mondiali cercano di riportare la produzione in casa. Questo articolo, vedete, channelworld.it, quindi Europa, USA, Giappone, India vogliono rendersi indipendenti dalle regioni più calde dell'Asa in un settore che nel 2030 varrà 1000 miliardi di dollari. Non è una cosa facilissima a farsi, è un processo lungo, quindi magari ogni anno queste potenze mondiali potranno riportare in casa un numero ridotto di punti percentuali. Però magari un anno sono due punti percentuali, un altro anno cinque punti, un altro anno saranno dieci, e in mano a mano ricominciano a riprodurre sempre più cheap in casa propria. E quindi è normale, soprattutto con un'esposizione forte, in tal senso delle aziende statunitense, delle dichiarazioni di Biden, che i mercati si vadano subito ad anticipare, a portare avanti nella loro visione, partono sempre prima della realtà economica, e quindi anche tutto quanto può essere accompagnato da un po' di speculazione, ma queste sono le ragioni. Inoltre vi è una coscienza forte, mentre una volta era soprattutto speculazione, adesso le aziende grandi sono delle realtà affermate da tantissimo tempo e non rappresentano più il futuro, rappresentano proprio il presente, di cui non possiamo fare a meno. Infatti il mondo ha sempre più fame di data center, di server, di tutto quanto quello che vi è connesso. Quindi ci rivolgiamo alle aziende dei semiconduttori, non ne possiamo fare a meno. Osserviamo anche un VIX che si è andato a rilassare, quindi si è spaventato il mercato per colpa del fallimento della Silicon Valley, e poi tutte quante le varie notizie, Credit Suisse, ultimamente stiamo assistendo, stiamo ascoltando quello che potrebbe accadere alla Deutsche Bank, tuttavia vediamo un mercato che si è rilassato, si è subito tranquillizzato. Concludiamo dando uno sguardo all'S&P 500, e sicuramente la sua impostazione è positiva, ragionando da ottobre ad oggi, quindi insomma in un arco temporale breve, a un'impostazione bullish, vediamo una successione dopo i minimi di ottobre, di massimi e minimi via decrescenti, fino in realtà a poche sedute fa, in cui poi abbiamo assistito a un massimo o minimo decrescente per la prima volta da ottobre. Però qui in mezzo dobbiamo andare a identificare delle notizie terrificanti, quindi fallimenti bancari, ma ci siamo già ripresi da quella discesa, quindi stiamo qui tornando più o meno sui 4000 punti, e questo è un segnale positivo, quindi per ora dopo uno scivolone sta tenendo ancora la media mobile a 200 periodi, è sicuramente una buona impostazione. Abbiamo anche assistito alla Golden Cross, quindi all'incrocio delle medie mobile a 50-200 periodi, e solitamente la maggior parte delle volte, secondo i periodi abbastanza positivi sui mercati finanziari. Quindi dopo quell'incrocio sono arrivate, ripeto, delle notizie veramente scioccanti, eppure ci troviamo di nuovo sui 4000 punti, niente male direi l'impostazione attuale. Poi nelle prossime giorni può accadere sempre di tutto, però questa è la situazione, volevo andare a condividere, e quindi questi mercati che tutto sommato già si portano avanti, e non credono più a determinate retoriche. Questa è la fotografia al momento. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti qui sotto. Io prima di salutarvi, come sempre, vi auguro il meglio nella vita di investimenti, e vi do appuntamento a prestissimo. Ciao!